Benvenuti al River Cafe, il locale più carino, più importante di New York, davanti al ponte di Brooklyn. E con l'atmosfera veramente fuori dal comune, forse tipica, forse un po' già vista, ma così strana. Poi con le musiche di Dorothy che sta suonando Bach. E perché Bach? Perché forse anche Bach è nato in New York. Come tutte le cose importanti, come tutte le cose che ci immaginiamo, ma non certo come queste che andiamo a suonare. Alla prossima Yeah, yeah, come on. Alla prossima Sing it up. Alla prossima Well if you love the one you love, you gotta have to hour and if you hear a thunder, door from under on three, there's many for you and me. Do it, do it. Sing it up. Sing it up. Sing it. Sing it. Sing it. Sing it. Sing it. Sing it. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.